Sto suddividendo i vari angeli che ho creato in cartelle, ognuna contrassegnata con la qualità che l'angelo in questione mi procura, mi suscita. Così mi sono anche chiesta chissà come gli altri percepiscono questi angeli. Che qualità suscita ognuno di loro in voi che li vedete? Così ho pensato di fare dei video dove vi presento via via gli angeli che ho raccolto in una specifica cartella, senza però dirvi la mia classificazione, quindi il nome che ho dato alla cartella. E chi ha voglia di partecipare mi può indicare sotto nei commenti ho la sensazione generale di questa categoria di angeli, oppure visto che li numererò mi potrete dire l'angelo che vi ha più colpito e che qualità vi suscita. Ringrazio tutti di cuore quelli che vorranno partecipare a questa, come la chiamiamo, indagine, o forse è meglio chiamarlo gioco. Un piccolo momento di distensione da passare con gli angeli. Ringrazio tutti di cuore che si tratta di passare con gli angeli. Ringrazio tutti di cuore che si tratta di passare con gli angeli.